Nuova Ford Focus, la Ford migliore di sempre. Oggi presentiamo la nuova Ford Focus, la Ford migliore di sempre. Autoregina del proprio segmento con 20 anni di storia alle spalle e 16 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. Prima Ford ad offrire in Europa Lead Up Display, che consente la visualizzazione dei dati di guida. La Focus è un concentrato di tecnologie per la guida sicura. L'evoluto sistema di guida assistita Ford Copilot 360 aiuta il conducente a controllare la velocità di crociera, a riconoscere i limiti di velocità, a mantenere una traiettoria costante e può aiutare a sterzare e frenare in caso di eventuali pericoli, oltre che aiutare nei parcheggi. Ci sono poi il riconoscimento di pedoni e ciclisti. Iperconnessa alla Focus introduce il modem integrato Ford Pass Connect, il nuovo sistema di connettività Ford che permette di gestire la tua auto come mai prima d'ora. Grazie a una serie di servizi connessi potrai interagire a distanza con il tuo veicolo attraverso lo smartphone. Sull'auto è presente la ricarica wireless del telefono. Sulla nuova Focus il sistema infotainment Ford Sync 3, tra i sistemi più avanzati e semplici da utilizzare sulle auto, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Grazie alla presenza del sistema audio B&O Play con 10 diffusori potrai vivere un'esperienza audio eccezionale. Le 5 stelle ottenute nei crash test Euro NCAP certificano il suo eccezionale livello di protezione. Il nuovo Ford Focus è disponibile nelle versioni Plus, Titanium, ST-Line, Vignale e completa alla gamma, la versione Crossover Active. Vi aspettiamo presso lo showroom Area Motors di Mazzara per provare il veicolo. Inoltre all'interno dello showroom Area Motors di Mazzara troverete l'intera gamma Ford. Grazie a tutti.